La solidarietà non è un crimine. Dal porto di Pozzalo dove è stata sequestrata la nave dell'ONG spagnolo Open Arms, è partito il grido delle associazioni per immigrazione dei sindacati. La nave con gli immigrati era arrivata sabato al porto Ebleo dopo uno scontro con la guardia costiera libica. Un solo candidato a sindaco di Ragusa per il centrodestra sarà scelto tramite consultazioni primarie. Lo ha deciso il tavolo provinciale dei partiti. Intanto si ipotizza una spaccatura del Movimento 5 Stelle, mentre tra i candidati civici crescono i concorrenti. Cipi, l'azienda che si occupa di gadget per aziende esclusi battenti per l'imperaturale della crisi dopo la protesta di ieri dei lavoratori, è arrivata la replica dell'azienda. Quest'ultimo ha chiarito di aver tentato altre strade prima di arrivare a questa decisione. Si chiama a cesta solidale l'iniziativa di un gruppo di commercianti modicani che stamattina ha donato prodotti a chilometro zero alle famiglie disagiate. La corsa della solidarietà è stata sostenuta dall'associazione Olus Salvuccio Agosta. Buon pomeriggio e ancora bentrovati a questa nuova edizione di MTG. A Pozzallo questa mattina la manifestazione Solidarity is not a crime. La solidarietà non è un crimine organizzato a sostegno dell'equipaggio dell'ONG Proactiva Open Arms, la cui nave è al momento sequestrata a Pozzallo, posta appunto dalla procura di Catania, che ha emesso anche tre avvisi di garanzia per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La nave era arrivata sabato scorso al porto di Pozzallo con oltre 200 immigrati, soccorsi a largo delle coste libiche ed era stata protagonista anche di uno scontro diplomatico con la guardia costiera libica che chiedeva la consegna delle persone a bordo. Per tutti i dettagli, per noi già da Giacquinta. La solidarietà non è un reato, è il messaggio sotteso alla manifestazione di questa mattina, organizzata al porto di Pozzallo in solidarietà a supporto dell'equipaggio della Proactiva Open Arms, la cui nave è tuttora bloccata sotto sequestro al porto di Pozzallo. L'organizzazione della manifestazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Casa delle Culture Mediterranean Hope e la Chiesa Metodista di Scicli. Abbiamo fatto un'iniziativa di solidarietà a delle persone che sono state fermate per aver aiutato qualcuno. A noi non interessano le questioni internazionali, capire se i libici possono o meno aiutare in mezzo al mare. Sappiamo che la cosa importante è che chi viaggia e la vita di chi viaggia è più importante nelle nostre frontiere. C'è un'unica alternativa al traffico degli esseri umani e sono i corridoi umanitari. Noi pensiamo che la questione sia risolvibile attraverso i corridoi umanitari, per questo lo stiamo facendo in maniera sperimentale. Il 27 e il 28 arriveranno altre persone attraverso questo corridoio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Sant'Egidio. Però nel frattempo tutte le persone che viaggiano devono sapere che c'è qualcuno che le aiuta. Abbiamo organizzato questo piccolo sit-in con altri che in rete ci occupiamo di immigrazioni e accogliamo soprattutto i migranti perché il salvataggio in mare è uguale al salvataggio in aereo. Quindi noi corridoi umanitari e assolutamente salvare le vite umane in mezzo al mare è praticamente due facce della stessa medaglia. Io credo che non favoriscono assolutamente la clandestinità anche perché nessuno vuole essere clandestino. In questo mondo siamo tutte persone, persone che abbiamo bisogno di aiuto e persone che devono avere il diritto di vivere dove vogliono. La proactiva open arms è finita nel mirino della procura di Catania ed è stata sequestrata domenica scorsa. La procura ha emesso tre avvisi di garanzia per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'inquirente non consegnando i migranti ai militari libici c'è stata la volontà di portare i migranti in Italia violando le leggi e accordi internazionali. Manifestazioni anche a Barcellona, Madrid e Alicante sullo slogan free open arms. Anche la CGL di Ragusa ha aderito al settino organizzato questa mattina a Pozzallo. Siamo di fronte a un forte arretramento sul piano della garanzia dei diritti umani per i migranti che attraversano il Mediterraneo. Come ha detto il segretario della CGL di Ragusa, Giuseppe Scifo, non possiamo continuare a vedere il Mediterraneo diventare un cimitero di vite umane. Non possiamo più sopportare l'affidamento di centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini alla Libia. Per questo è urgente rivedere il trattato di Dublino e attivare subito i corridoi umanitari. Conclude Scifo, soprattutto in relazione ai violenti conflitti, primo fra tutti quello in Siria. 29 mila euro di sanzioni complessive sono state elevate dai carabinieri in due centri di prima accoglienza per cittadini extra comunitari nella provincia di Ragusa. I controlli sono partiti dai carabinieri di Palermo insieme col Dipartimento del Lavoro della regione siciliana. Le altre due province coinvolte sono Trapani e Messina. Per i dettagli sentiamo Catiuscia Carpentieri. Sanzioni per oltre 66 mila euro e 8 datori di lavoro denunciati. E' questo il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai carabinieri di Palermo d'intesa con il Dipartimento del Lavoro della regione siciliana, presso enti, associazioni e cooperative sociali che gestiscono i centri di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. Tra le province nel mirino dei carabinieri c'è anche quella di Ragusa con due centri di accoglienza sottoposti a controllo. In uno è stato individuato un lavoratore in nero su tre presenti. Nell'altro sono stati riscontrati sei lavoratori irregolari accertando complessivamente sanzioni amministrative pari a 29 mila euro con un recupero contributivo pari a 12 mila euro. I controlli sono stati indirizzati all'accertamento delle regolari condizioni di lavoro degli addetti, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla legge. Le altre due province coinvolte sono Trapani e Messina. Quest'ultima sono stati cinque datori di lavoro deferiti alle procure della Repubblica competente per aver omesso la redazione del documento di valutazione dei rischi, l'attuazione della gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la conformità dei luoghi di lavoro. Un datore di lavoro per aver impiegato mano d'opera straniera priva del regolare permesso di soggiorno. Nella provincia di Trapani infine due datori di lavoro deferiti alla Procura della Repubblica per aver installato impianti di videosorveglianza atti al controllo dei lavoratori senza la preventiva autorizzazione, mentre in un centro è stato accertato l'impiego di due lavoratori in nero sui sei presenti con l'erogazione di sanzioni amministrativi pari a 8.298 euro e un recupero contributivo pari a 26.000 euro. Gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati alle prefetture di competenza. Vincenzo Dato, latitante mafioso ricercato dallo scorso dicembre, è stato arrestato a Rieti dai carabinieri di Catania, coadiuvati dai colleghi della compagnia Rietina. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Corte d'Appello di Catania relativo a una condanna di 4 anni di carcerazione proprio per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'uomo si era rifugiato a Rieti per sfuggire alla cattura nel momento in cui i carabinieri dopo varie indagini lo hanno rintracciato e si sono presentati nella sua abitazione. Dato ha esibito una carta d'identità falsa ma con la sua foto. I militari dunque hanno proceduto alla perquisizione dell'appartamento dove erano presenti altre tre persone e hanno trovato passamontagna, taglierini, fascette e ricce trasmittenti. L'uomo è stato condotto nel carcere di Rieti mentre gli altri tre soggetti sono stati denunciati. E' stato arrestato a Vittoria il 48enne venerando Lauretta, già sorvegliato speciale per reati di tipo mafioso in quanto ieri nel tardo pomeriggio al pronto soccorso del Guzzardi a seguito di un incidente stradale inveito contro i vigili urbani farendo anche un agente della Polizia di Stato che era intervenuto per calmarlo. Lauretta è stato condotto nel carcere di Ragusa. Prima l'impatto con un'auto proveniente dal senso opposto sullo stradale a un chilometro da Scoglitti poi l'arrivo in ospedale con un'ambulanza e successivamente minacce e aggressioni fisiche dirette a un agente della Polizia di Stato. Protagonista del pomeriggio turbolento al pronto soccorso all'ospedale Guzzardi di Vittoria è stato il già noto sorvegliato speciale per reati di tipo mafioso. Il 48enne venerando Lauretta Vittoriese che anziché farsi medicare a seguito del sinistro stradale si è trovato con le manette ai polsi e successivamente in carcere per resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali con l'aggramante di aver agito con la forza intimidatrice dovuta alla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa. Durante il pomeriggio Lauretta era sul lato passeggero in auto con un amico quando è impattato contro un'utilitaria proveniente dal senso opposto. I feriti hanno spostato le auto e sono stati condotti al pronto soccorso. La polizia municipale arrivata sul posto del sinistro non ha potuto rilevare l'incidente perché non c'era più traccia dei due veicoli coinvolti e è andata dunque al pronto soccorso per redigere il verbale con le dichiarazioni dei conducenti. E' proprio in quell'attimo che Lauretta è andato su tutte le furie. Pretendeva che la municipale cambiasse alcune dichiarazioni dell'altro conducente senza averne titolo. Ha cominciato a minacciare invece creando un clima di terrore e tensione nella sala d'attesa del Guzzardi di controllo sul territorio. C'era una pattuglia della Polizia di Stato di Vittoria che è intervenuta e ha tentato di riportare la calma al pronto soccorso. Lauretta invece si è scagliato contro un poliziotto procurando di lesioni guaribili in pochi giorni. Il 48enne è stato ristretto nel carcere di Ragusa. Carabinieri di Vittoria hanno eseguito un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena pendente da febbreo di quest'anno nei confronti di un rumeno di 25 anni condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per avere guidato in stato di ebrezza un reato commesso in Romania nel 2015. Il giovane è stato individuato e incontrato a pezza di fico nei dintorni di Acate e immediatamente arrestato e è stato condotto nel carcere di Ragusa. In gente a sequestro di droga ieri in tarda serata effettuato dai carabinieri della compagnia di Modia che hanno anche arrestato in flagranza di reato un albanese di 32 anni un operaio residente a Modica Alta. Dopo una serie di pedinamente è stata anche effettuata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ingenti somme di denaro. 5 kg e 200 grammi di marijuana. È stato arrestato in flagranza di reato un 32enne operaio albanese già noto per reati specifici ed è stato condotto nel carcere di Ragusa per detenzione di fine dello spaccio di sostanze stupefacenti. Non era un semplice pusher al dettaglio, secondo i carabinieri di Modica che lo hanno pedinato per settimane, ma vendeva la droga ai piccoli spacciatori che la rifornivano anche ai minorenni. Lo stupefacente veniva rivenduto anche nelle scuole. L'albanese si riforniva di droga tra Catania e Calabria a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei cittadini è scattato il blitz nell'abitazione in via Calvario nella zona di San Giovanni a Modica Alta ieri sera, dove è stata trovata una bussa con circa 20 grammi di marijuana e una scarpa da lavoro. Successivamente sono state scanaliate tutte le istanze dell'abitazione dell'uomo e celati all'interno di una botola che dal bagno si affacciava in un sottotetto sono stati trovati 5,5 kg di marijuana. L'albanese deteneva anche 1.200 euro nella tasca della giacca a provento di spaccio sottoposto a sequestro. L'ingente quantitativo di droga trovata, se messa sul mercato, avrebbe fruttato 100.000 euro. Indubbiamente questa di oggi è un'operazione importante perché si svolge a Modica Alta, un territorio tendenzialmente sano rispetto alle altre cittadine del comprensorio. Un quantitativo ingente, forse il sequestro più grande degli ultimi 4-5 anni di marijuana su Modica e soprattutto abbiamo colpito un soggetto, questo albanese 32enne che evidentemente non era esclusivamente uno spacciatore al dettaglio ma aveva a casa sua uno stupefacente per oltre 100.000 euro una volta immesso sul mercato. Sicuramente importante anche il contributo dei cittadini, delle famiglie. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare ogni giorno, ad ogni attività. La collaborazione dei cittadini, la segnalazione di ogni situazione, di ogni evento rilevante o ritenuto tale dei cittadini per noi è importante per indirizzare la nostra attività di controllo del territorio e per andare a segno con l'azione di contrasto. La marijuana ormai è consumata da ragazzini anche di 12 o 13 anni e consumata probabilmente durante le pause, durante la recreazione nelle scuole ed è importante da parte delle famiglie, da parte degli insegnanti, la segnalazione e la prevenzione. Sulla partita contro lo spaccio di stupefacenti, la collaborazione da parte di tutti è fondamentale. Tanta paura ieri pomeriggio al quartiere Dente a Modica dove un bambino di 10 anni è stato investito in via Nazario Sauro vicino alla parrocchia di Sant'Anna. Il minore, residente nel quartiere, era in compagnia del padre quando improvvisamente ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali proprio mentre sopraggiungeva un'autovettura condotta da un anziano che non è riuscito a evitarlo. Scattato l'allarme, su posto è arrivata l'ambulanza del 118 e anche una pattuglia della polizia locale. Il ragazzino è stato trasferito al pronto soccorso e poco dopo sottoposto a un intervento chirurgico per la ricomposizione di una frattura alla tibia. Ha riportato anche un politrauma e ricoverato con una prognosi di 30 giorni. La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per stabilire le eventuali responsabilità. La polizia di Stato ha trovato a casa di un vittoriese e sei cuccioli in fin di vita che erano stati rubati a Ragusa. Oltre gli animali, il ladro si era anche impossessato di computer, tablet, telefoni e anche oggetti in oro. La vita di sei cuccioli appena nati è stata salvata dagli uomini della squadra mobile di Ragusa dopo la denuncia di una signora che aveva subito un furto nella sua abitazione ma la sua disperazione era appunto i cuccioli che senza il latte della madre non sarebbero sopravvissuti. Un motivo in più che ha spinto i poliziotti a mettersi immediatamente alla ricerca degli autori grazie anche alle indicazioni della vittima in quanto in passato aveva già venduto gli stessi cuccioli ad alcune persone che erano venuti a prenderli a casa sua. Un dato fondamentale per le indagini condotte insieme alla polizia del commissariato di Vittoria è che hanno portato alla denuncia di un 26enne pluripregiudicato vittoriese. Gli agenti dopo appostamenti sotto casa di alcuni sospettati per i precedenti penali sono entrati a casa del 26enne in un primo momento e il ragazzo ha negato tutto ma i poliziotti hanno sentito abbaiare i cuccioli che sono stati trovati in una stanza dentro una cesta. Davanti all'evidenza dei fatti il 26enne dunque ha ammesso il furto ai danni della signora che già conosceva detto perché in passato aveva acquistato un cucciolo della stessa razza. Il ragazzo ha aspettato che i proprietari della casa uscissero per poter fare irruzione e rubare oltre ai cuccioli che li ha messi dentro uno zaino anche altri oggetti in oro. I cuccioli dunque sono stati restituiti alla signora che li ha ricondotti alla madre per poterli allattare considerato che erano malnutriti e disidratati. La squadra mobile raccomanda alle vittime di ogni tipologia di reato di segnalare subito quanto accaduto e di non tralasciare e di inserire in denuncia alcun dettaglio. Difatti anche un piccolo elemento può fornire agli strumenti e alla polizia per un'immediata risoluzione del caso. Dopo la soddisfazione per l'intervento del presidente della regione siciliana nello Mosumece all'assemblea di ieri a Palazzo Iacono, i produttori agricoli attendono adesso fatti concreti e proprio sulla crisi del comparto agricolo è intervenuta la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo per chiedere che venga calendarizzata all'arsa l'assemblea regionale siciliana una loro mozione sull'agricoltura. Tutti i dettagli da Carmela Minardo. Soddisfatti per l'intervento di ieri a Palazzo Iacono del presidente della regione siciliana Nello Mosumeci i produttori agricoli adesso attendono i fatti concreti. Gli imprenditori che avevano occupato i municipi di Vittoria, Santa Croce e Pachino aspetteranno otto giorni così come annunciato da Mosumeci nel corso dell'assemblea molto partecipata che si è svolta nella Sala degli Specchi. Soddisfatto per l'inizio del percorso a tutela dell'agricoltura anche il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato. Vittoria si è fatta città capofila della protesta per via della gravissima crisi che ha colpito il comparto addetto Moscato. Il presidente ha potuto ascoltare dalla viva voce dei produttori diverse testimonianze rese con grande dignità e civiltà che hanno rappresentato la disperazione di un intero comparto al collasso. Il percorso, come assicurato dal presidente e continuo Moscato, inizierà la prossima settimana con la dichiarazione dello stato di crisi e con l'incontro con i vertici della grande distribuzione. I controlli sulla merce in viaggio verso la Sicilia proseguiranno e ci sarà un incontro tra il presidente Musumeci e i vertici dell'Unione Europea a Bruxelles. E' lì che bisogna incidere per rivedere i trattati che hanno svenduto la nostra agricoltura. Chiaramente nell'immediato futuro, ha concluso Moscato, non si risolverà la crisi, ma il presidente è al fianco dei produttori per tracciare un percorso condiviso. E intanto anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, interviene per chiedere che si proceda con urgenza alla deliberazione dello stato di crisi di mercato dell'intero comparto agricolo regionale per avanzare poi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la sospensione di bollette e pignonamenti per i produttori siciliani. Se Musumeci vuole realmente risolvere i problemi degli agricoltori, conclude Stefania Campo, allora incalzi il presidente dell'Assemblea regionale, Miciche, a calendarizzare subito questo testo in aula. Dopo la protesta di ieri dei lavoratori della CIPI, la azienda in serata ha replicato, sottolineando con rammarico, la scelta di dover chiudere alla luce del perdurare della crisi. Sentiamo Sara Donzuso. Dopo le proposte, ma anche le accuse arrivate da CGL, CISL e UGL in merito all'avvertenza CIPI, ieri pomeriggio è stata inviata una nota dalla stessa azienda, nella quale si sottolinea la comprensione per il disagio dei lavoratori, ma soprattutto le evidenti difficoltà che stanno attraversando proprio l'azienda. Prima di arrivare a questa dolorosa decisione, si legge nel comunicato stampa, l'azienda ha sopportato per anni gravi perdite economiche che hanno portato al progressivo assorbimento della liquidità immessa. Ammontano ad oltre 3 milioni di euro le perdite dei soli ultimi 4 esercizi, i cui bilanci sono stati certificati da primari enti di revisione. Non è più possibile accumulare ulteriori perdite. Non ce l'abbiamo fatta a causa dell'insostenibile costo del lavoro della produzione, soprattutto se paragonato alle lavorazioni provenienti prevalentemente dai paesi dell'est. Si legge ancora nel comunicato stampa, nel quale si evidenzia che c'è una perdita evidente, perché il fatturato è passato da 33 milioni di euro a poco più di 8. Quindi non si tratta, si legge ancora, come abbiamo più volte letto di volere guadagnare di più, ma di cercare un nuovo auspicabile equilibrio fra costi e ricavi. A fronte di quanto esposto si conclude nella nota, non riteniamo ci siano alternative percorribili a questa difficilissima decisione di chiudere lo stabilimento produttivo di Catania. Parliamo adesso di amministrative a Ragusa. Un solo candidato per il centro-destra sarà scelto attraverso le primarie, quindi tramite queste consultazioni che è stato deciso dal tavolo provinciale dei partiti e dei movimenti dell'area politica, che ha demandato alle organizzazioni cittadine la stesura del regolamento per la selezione del candidato. E intanto si ipotizza una spaccatura del Movimento 5 Stelle. Vediamo perché in questo servizio. Consultazioni primarie per individuare il candidato del centro-destra. Lo ha deciso stamani il tavolo provinciale dei partiti e movimenti dell'area politica che ha demandato agli organismi cittadini la stesura del regolamento. Un solo nome per Forza Italia diventerà bellissima per i fratelli d'Italia e Lega. Il coordinamento dei partiti riunitosi questa mattina ha affrontato il tema delle elezioni amministrative per Ragusa, Comiso, Modica e Dacate, alla presenza del coordinatore provinciale Giovanni Mauro per Forza Italia, Salvo Salemi, Ignazio Nicastro e Sergio Arezzo per Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza per Diventerà Bellissima, Luigi Melilli per la Lega, Carmelo Incardona per l'Udc. Oggi è emersa la chiara volontà di affrontare le competizioni in modo unitario ovunque. Assenti il deputato nazionale Nino Minardo impegnato alla Camera per l'elezione del presidente e quello regionale Orazio Ragusa per impegni istituzionali. I coordinamenti cittadini del centrodestra torneranno a riunirsi prima di Pasqua per proporre il metodo ed accogliere le candidature. Ora bisognerà verificare se Sonia Migliore di Lab 2.0 e Maurizio Tumino del Movimento Insieme, entrambi espressione del centrodestra, accetteranno di sottoporsi alle primarie per far parte della coalizione. Intanto si ipotizza una spaccatura del Movimento 5 Stelle. Il candidato, così come confermato dal portavoce Stefania Campo, potrebbe non essere Antonio Tringali. La guerra tra i due meet-up nella città capoluogo continua. Il 20 marzo sono scaduti i termini fissati dal Movimento per la composizione della lista e allo staff nazionale sono stati inviati tempestivamente solo i nomi proposti da uno dei due meet-up che punta per la carica di sindaco su Stefano Stracquadaini. Tra i candidati civici crescono i concorrenti, gli ultimi nomi Gianni Iacono e Carmelo Ialacqua. Mentre per il le primo si attende che sciolga la riserva, Carmelo Ialacqua ha presentato il simbolo e la sua candidatura. Città Futura ha già pronta anche la squadra assessoriale, che sarà presentata da attivisti e simpatizzanti subito dopo Pasqua. Pogliese è un ottimo politico, ma dobbiamo rivedere il modo di affrontare la scelta dei candidati per le amministrative. Lo ha detto il coordinatore regionale di Noi con Salvini, Angelo Attaguile, parlando delle prossime elezioni comunali a Catania. Sentiamo il destrivizio. La scelta dei candidati deve essere condivisa, alla luce anche dei risultati delle nazionali. Serve confronto e ci spenderemo per il territorio. Lo dice il coordinatore regionale di Noi con Salvini, Angelo Attaguile, che nel corso di una conferenza stampa ha evidenziato come occorre pensare a una nuova politica, che intercetti il voto di opinione, così come viene fatto al Movimento 5 Stelle. E' per questo che serve lavorare. Guardi, in Sicilia il risultato già è stato eccellente, superare e toccare il 6%. Eravamo da soli. Ci era schierato con, sarà bellissima, con Fratelli d'Italia, tutta la giunta regionale. Quindi erano impegnatissimi. Noi li abbiamo superati, solo con il voto d'opinione che trascina questa simpatia, non soltanto come simpatia ma anche come valore su quello che dice e sui temi che detta Matteo Salvini. E quindi è stato un grosso successo. La lega avrà i suoi candidati come sindaco? Oggi parecchi amici mi chiedono di farlo per Catania e per la mia città. Posso anche farlo, anzi sono disponibile e mi impegnerò a essere presente sul territorio mettendoci la faccia. Durante la conferenza stampa è stato ufficializzato il passaggio della consigliera comunale di Ragusa, Emanuela Niscita, che lascia il Movimento 5 Stelle per approdare nella lega. Col passare dei giorni e dei mesi mi sono accorta che proprio il programma era completamente stravolto, che non si dava ascoltare i cittadini. E di fatti è quello che è successo, poiché il sindaco che abbiamo non riceve i cittadini. Insomma ha fatto un programma politico che non ha avuto proprio riscontro in città. Scade il prossimo 31 marzo il termine ed è stabilito dal Ministro degli Interni per l'approvazione del bilancio di previsione 2018. L'unico comune in provincia di Ragusa che ha rispettato i termini è quello di Pozzallo. Il comune di Pozzallo è il primo comune della provincia eblea ad aver approvato il bilancio di previsione entro il termine ultimo del 31 marzo 2018 previsto dal Ministero degli Interni. Uno strumento importante per la programmazione economico-finanziaria che consentirà all'amministrazione comunale di poter programmare le grandi sfide e gli appuntamenti già in cantiere. Per la città di Pozzallo l'approvazione del bilancio di previsione significa diminuzione della tassa dei rifiuti grazie al nuovo capitolato speciale d'appalto approvato lo scorso agosto dall'amministrazione comunale e l'esternalizzazione di alcuni fondamentali servizi, quelli della riscossione che permetterà al comune da un lato a sbloccare risorse preziose da investire nell'erogazione dei servizi ai cittadini e dall'altro ad abbassare ulteriormente le aliquote dell'imposta. Il bilancio di previsione 2018, ha detto il sindaco Roberto Ammatuna, si aggiunge alle delibere della rimodulazione del vecchio piano di riequilibrio, del bilancio di previsione del 2017, del consuntivo del 2016, del nuovo piano di riequilibrio, cinque strumenti finanziari che l'amministrazione attuale ha approvato in dieci mesi di attività. Ammatuna seguirà personalmente l'iter di approvazione presso il Ministero degli Interni affinché si possa aggiungere prima possibile alla conclusione, iniziando così una nuova fase di rilancio economico per la città. Ammatuna tiene a precisare anche che la notizia sul paventato dissesto del comune che avrebbe certificato la Corte dei Conti è falsa e fuorviante. La nota della Corte dei Conti dello scorso 7 marzo, scrive il primo cittadino, non solleva alcuna criticità in merito al bilancio comunale. L'amministrazione comunale comunque ha dato l'incarico al professore Felice Giuffrè, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Catania, di rappresentare il comune di Pozzalla all'udienza del prossimo 4 aprile, davanti all'aula delle adunanze della Corte dei Conti su tutte le contestazioni sollevate sulla legittimità costituzionale della legge. Stagione ricca di novità per l'aeroporto di Catania, che si prepara già con la Pasqua, ha un maggiore afflusso di turisti. Un'importante stagione si preannuncia per l'aeroporto di Catania. Da marzo ad ottobre tantissime novità che riempiono la stagione Summer 2018. 31 paesi stranieri che verranno collegati con Catania all'Europa, dall'Africa e dall'Asia. 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte, come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend, cui si aggiungono Marrakesh e Siviglia in autunno. Aumentano poi le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Düsseldorf e anche sulla rotta Catania-Roma, quella più trafficata d'Italia, che in estate arriverà a 40 voli giornalieri fra andata e ritorno. E poi c'è la Pasqua, imminente, con 205.000 passeggeri in transito su Catania, un più 10% rispetto allo scorso anno, 75.000 dei quali sono stranieri, con un più 15%. Soddisfatti di questi numeri, l'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, e la sua presidente, Daniela Baglieri, che annunciano altre importanti novità che riguardano proprio i terminal. Si è messo infatti a bando la gara per svuotare l'ex Morandi, destinato a diventare il terminal B. E poi prende il via il nuovo sistema e la gestione dei parcheggi, che grazie a dei software avanzati e con l'introduzione del telepass renderà ancora più semplice l'accesso alle aree di sosta, contribuendo a fluidificare la viabilità interna del sedimero portuale. Cesta Solidale è l'iniziativa di un gruppo di commercianti modicani che ha donato alle famiglie meno ambienti prodotti freschi, in collaborazione con l'associazione Ollus Salvuccio Agosta. Istituire una cesta solidale all'interno della quale ognuno dei commercianti mette ciò che resta in venduto dei propri prodotti freschi e che quindi andrebbe sprecato da devolvere tutto in beneficenza. È l'idea di un gruppo di titolari dei mercati contadini che ogni sabato mattina operano nel piazzale Gramsci, nella parte finale di Viale Medaglie d'Oro. Un grande atto di solidarietà e di attenzione alle famiglie meno ambienti. Siamo 18 aziende che abbiamo pensato di tutti i sabati a mezzogiorno di donare qualche cosa di nostro per delle famiglie bisognose qua di Modica. Quello che noi abbiamo, la pasta, la farina, le focacce, il pane, la ricotta, tutto quello che produciamo noi, abbiamo pensato di donarlo a delle famiglie in difficoltà. La nostra intenzione è quella di passare questo messaggio che non deve finire qua, vogliamo che delle altre attività devono contribuire a fare quello che abbiamo fatto noi. Coinvolta l'associazione Onlus Salvuccio Agosta, scomparso nel 2004 all'età di 26 anni. Salvuccio Agosta, sin dalla più giovane età, aveva un grande rispetto per gli altri e un'attenzione particolare nei confronti delle persone meno fortunate. L'associazione Salvuccio Agosta che rappresenta il pensiero che aveva mio figlio, il messaggio che ha lasciato Salvuccio, aiutare le persone che rimangono in difficoltà. Noi seguiamo 100 famiglie che sono nel bisogno, però come dice il Papa, l'uomo ha bisogno di dignità, di lavorare. Quindi stiamo promuovendo un convegno con il nostro Vescovo a San Giorgio, dove si recupera la dignità della famiglia, ha bisogno di lavoro soprattutto, e essere curato in caso di malattia, perché mio figlio ha avuto una malattia e in poca parola siamo rimasti. Si può dire che la famiglia rimane da sola a lottare contro questi, quindi abbiamo a cuore questo tema. Quindi recuperare i gesti di una volta è molto bello. Potrà essere visitata la mostra Piero Guccione, il Mediterraneo invisibile, a partire dalle 19 di questa sera. La Galleria Arte Viva Club Bedonei invia Cavour a Vittoria, un'antologica di circa 40 lavori per lo più dipinti, incentrati sui primi decenni di attività del noto pittore ciclitano. La mostra curata da Giovanni e Livio Bosco mira di illustrare al pubblico il periodo trascorso dall'artista a Roma, periodo nel quale il giovane Guccione cominciò ad ottenere primi riconoscimenti rendendosi partecipativo della scena romana di quegli anni. La mostra potrà essere visitabile fino al prossimo 23 maggio. È davvero tutto con questa notizia, grazie come sempre per averci seguiti e a tutti voi buona domenica. Grazie a tutti.